Piccolo Evan, fratellino accusa il papà di Evan e il compagno della madre. Ieri, iniziato con l'audio protetto del fratello di Evan di 6 anni, potrebbe essere l'unico testimone oculare di quanto accaduto al bambino di 21 mesi, morto lo scorso 17 agosto a Rosolini. La madre di Evan, Letizia Spatola e il suo compagno Salvo Blanco sono in carcere con l'accusa di maltrattamento e omicidio. Il primo figlio di Letizia viveva con loro e, ascoltato con l'aiuto di uno psicologo, ha raccontato alcune delle violenze che avvenivano in quella casa, forse non solo negli ultimi mesi. Il piccolo ha riferito di come Blanco spesso avrebbe picchiato Evan e la madre presente in diverse occasioni, ma ha anche aggiunto che le botte al bimbo le avrebbe date anche Stefano Lopiccolo, il padre di Evan, che ha vissuto con Letizia Spatola fino a novembre del 2019. Anche per queste dichiarazioni Lopiccolo è indagato per maltrattamenti, non legati però alla morte del figlio che non vedeva da novembre del 2019, quando si è trasferito a Genova. L'audizione è quindi fondamentale perché servirà a fissare le dichiarazioni del piccolo testimone e a chiarire cosa avrebbe subito Evan in soli 21 mesi di vita. Un esame ripetibile che avviene in ambiente protetto per tutelare il bambino che è assistito da uno psicologo. Erano presenti però tutte le parti coinvolte come prassi per un incidente probatorio.